un saluto potentissimo la tfg on demand rinnega ho comprato il boia ciao dominic continua va bene ho comprato guardatelo non è di livello alto è solo a livello 3 che sfigato non hai più speso 300 euro per quanto non esiste ragazzi comunque questo deck è potentissimo ma il boia è potentissimo no il boia è esagerato è l'equivalente secondo me si trova il boia come dove si trova in che arena si trova il boia mi pare in arena 9 eccolo qua in arena 9 comunque il boia secondo me è simile al mago ma per oscar è più forte perché ha più vita e colpisci andando e ritornando esatto quindi se tu metti il gruppo di scheletrini al mago il mago c'è detto quelli che sono di qua ma quelli che sono di qua uccidono il mago non è detto quasi sempre invece quando il boia tira il disco quando torna indietro uccide anche quello che sta tutto avanti e dietro attorno a lui capito potentissimo comunque sblocchiamo questo e procediamo con una battaglia vediamo come ti comporti allora io avevo messo il deck con il gigante e il boia aspetta che ti sgancio il gigante con il boia tanta invece no ho messo i barbari scelti è più forte i barbari scelti e lo so ragazzi mi vergogno di usare questa truppa ma basta usare sempre le stesse cose non è che uso sempre le stesse cose uso sempre le stesse cose si tutti a il mago il mago il mago si assolutamente palla di fuoco sul mago perfetto si arriva il boia l'uccidore arriva il boia non è morto che poi il boia da solo la torre non è che fa poco danno eh guarda 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 zlan 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 quanta vita è il boia? è parecchio non so dirti quante esattamente troppo tardi no 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 ma no hai visto si era girato si era girato e questa cosa mi dà fastidio enormemente mi ha ucciso con la palla di fuoco la tua torre? no aspetta la mia torre mi ha ucciso il si con la palla di fuoco mi devo potenziare il moschettiere livello 8 ragazzi infatti sto chiedendo carte ma tipo è una stransata sono in arena leggendaria posso chiedere 4 rare? cioè no fammela chiedere 2 tanto vale scusami è perché ti lamenti? perché è troppo troppo poco aspetta devo giocare bene il mio il mio gigante il mio barbari scelti con il boia dai dai boia eh no però la deve morire male proprio guarda 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 ok perfetto muori cazzo zan perfetto vado a uccidere la torre così oh no ah i barbari scelti che schifo che li usa oh fa proprio schifo che schifo cosi barbari scelti che schifo quelle che usano i barbari scelti oh veramente che merda fai schifo non meritano di giocare non meritano di giocare quelli con i barbari scelti ah tu si giocare di scelti? aspetta che ti sgancio il mio barbaro scelto allora dai guarda come muore stabam stabada bam 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 ok perfetto andiamo il boia gigante con il boia no adesso adesso a quello lì a quello lì assolutamente sbada bam e sbada bam perfetto ah vedi vedi ha colpito stava colpendo vedi perché secondo me è più forte il boia del mago perché alla fine costano sempre cinque sa per danni a zona sempre stessa velocità d'attacco no 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 ce l'ho fatta ce l'ho fatta no sai cosa il comodo del boia quindi col fatto che tira lascia anche se non ha focussato il colpisce quello che sta dietro lo corazzato esatto colpisce quello che sta dietro ah guarda guarda uno è andato su merda merda pensavo di fare una figata io ti prego ti prego un colpo la torre è proprio un perfetto potentissimo sto deck ragazzi potentissimo sto deck è una bestia ragazzi se avete il boia ve lo consiglio il boia non l'ho trovato l'ho shoppato l'ho shoppato con 400 gemme e quindi sono riuscito a portarlo subito a livello 3 però non ho più trovato poi gemme si gemme boia ok perfetto 30 trofei ma sei come una carta rara quindi no epica scusa epica epica il bago è raro comunque torniamo a fare una partita ragazzi per conferma che questo deck è potentissimo eh vediamo non devo perdere però è adesso le prende in cule in maniera brutale no perché quando provi i deck da solo vinci è molto labile che vinca quando oh basta cos'è è la sagra degli sclettrini veramente lo usano tutti sta carta è una carta potentissima new meta new meta ragazzi niente abbiamo oh attenzione cazzi cazzi amari grandi e grossi però attenzione se lui usa quello non mi è adesso la mongolfiera sono quasi sicuro adesso così quello cosa vuoi io secondo me se in bomba è quello col mastino e si usa così punto adesso vedi lui dubbi pensa ah io c'ho gli scheletrini e no no perché arriva il mago no 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 guarda che potentissimo che il boia è il problema adesso eh vabbè guarda mamma mia potentissimo ragazzi potentissimo adesso lui c'ha il mastino di nuovo aspetta vai aspetta aspetta ancora un po aspetta che gli sganci aspetta aspetta questo oppa col mega sgherro via vai 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 barbari scelti spado bim e spado bim tu ha lo specchio alla specchio il bastardo all'aspecchio specchioso alla specchio all'aspecchio bastarda e io metto questo metto questo e e poi potenzio 7 e 8 ebbè non aveva morto 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 che poi questo qui fa tanto danno da solo è mettiti metti gli ascolti di fronte la torre così aspetta no bastardo alla torre così no che adesso martino non va verso di quello ma si che va anche se non vanno ma ne frega niente riportate di strada sì che dai ma dai che va ma sì che va ok ma sì che vanno dai che va ma sì che va ok arcieri ottima c'è arciers guarda che gli sgheri muoiono adesso perché muoiono male vero uno è morto aspetta l'attimo ti zappo ottimo quella che trova indietro adesso muoiono tutti perfetto cosa vuoi fare il boia ragazzi è potentissimo il boia e quanta vita scusami il boia non lo so ancora dopo vedo ma non hai guardato la prima cosa da fare ma chi si trova hai messo le frecce adesso non puoi più difenderti e muori e la tua attore muore male perché giusto così ok perfetto chiuso e barbara scelta comunque la picchiana sangue allora non così e il boia mette gli anche il mega sgherro mette il boia adesso mi butto di nuovo con la tua nata adesso per il mega sgherro vuol cidermi il gruppo di scherzo no ma perché è stupido è perfetto attenzione no li zappo li zappo trafino lo zappo perfetto 24 secondi devo resistere però adesso li metti appena schierro il mastino tu glielo metti in altra parte eh io metto questi ah bastardo mettiamo questo allora ottimo totim pom totim pom ah ok ci stanno già colpendo quella alla fine mi va no un barbaro di qua un barbaro di qua un barbaro di qua ok uno versus uno praticamente va bene ok attenzione di qua adesso guarda gli muore prima volevi boff volevi comunque ho vinto di nuovo non per non per vantarmi e ne faccio un'altra perché dovete capire quanto è potentissimo questo deck quanto è potente allora ok subito 5 e 6 perfetto come fai boia barbari così così detta così così e così andate 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 cosa piangi vediamo cos'ha per difendere ah i barbari scelti i barbari contro i barbari guarda è la valkyrie cazzo un deck buono per uccidermi un deck buono per uccidermi un deck buonissimo bella giocata ma vai a cagare grazie ma vai a ramengo ma vai a cagare è potentissimo un vai a cagare potentissimo da parte intera dai arcii guarda gli arcii livello 11 sono una cosa orribile che è mega sgherro così uccidiamo subito fa fisi quello ha tirato anche male la zappi il ragazzo non è che l'abbia tirata poi tanto male non mi ha ucciso gli scheletrini adesso mette i ah sapevi che metteva il tronco però il megloschettier riesce a dare ben due colpi una torre ottimo 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 attento ai barbari scelti lui ai barbari scelti lui 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 è barbari scelti lui è barbari scelti ah se io facessi aspetta così aspetta sta buono così io sto buono ok ecco lì la guarda aspetta adesso li uccide male adesso metti i barbari scelti guarda ma se li uccide male ah ah di qua e li metto di qua ottimo è la torre e i piccoli i barbari scelti a limite dopo c'è la valchiria hai fatto la valchiria di là? eh no è la valchiria di là però sembra i miei barbari sono morti ok così non serve un cazzo però rallenta ogni scheletrino ok guarda te uccidi gli arcieri perfetto e qua muore anche la valchiria adesso senza uccidermi la tomba degli scheletrini perfetto allora cerco di buttare giù pian piano la torre con questo col moschettiere va bene perché il moschettiere sembra che da solo non riesca a fare un cazzo invece no potentissimo il moschettiere se non si ferma sugli sgherri allora è un po' difficile sta partita un po' un po' piantata ecco non c'è una guerra di una guerra di logoramonti aspetta che lui mette da questa parte adesso vabbè io metto di là di fronte di fronte di fronte di fronte di fronte no dai no di metterla di fronte al coso eh ce l'ho messa se l'ho creato tardi guarda ce l'ho più di fronte di così no doveva essere messa davanti alla torre se tu lo metti davanti alla torre dai uccidi perfetto e adesso però al tronco al tronco e tu li metti perché ma non lo so ma colpisce meno la torre ho colpito un cacchio non ho colpito niente cioè non ho colpito niente non ho colpito niente la peggior palla di fuoco che potremmo lanciare nel clash royale ho uccidetelo quella cosa lì ottimo e niente allora mettiamo il gruppo di schelettrini devo aspettare che lui ha già i barbari scelti in teoria devo aspettare che lui va bene metti il moschettiere adesso metti il moschettiere è potentissimo così vuoi e il coso dietro per la marchiglia ad esempio si butti la roba sulla torre così butti un paio di sgherri che tra gli ammazzo ottenuto ottimo lento può permetterà sicuramente i barbari scelti dalla parte o dall'altra no 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 una cosa fa visto cosa ha fatto che è perfetto via 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 così ottimo 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 guarda io a niente questo qui vuole solo difendersi non vuole attaccare capito che non può fare nulla contro ed è potenzissimo è vero non può fare nulla può solo difendersi quindi niente vinciamo cioè parezziamo sta partita mi sa ok almeno che io adesso mi faccio la giocata epica così vedi perché non ha più barbari scelti giusto sì che figlia è no invece è un palla di fuoco su cosa su torre su torre niente 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 impossibile impossibile un deck troppo simile hai visto hai visto bella giocata grazie ci ho provato potentissimo niente vabbè ragazzi 12 vinte una pareggiata ma pareggiata perché nel senso il deck era simile poi lui è stato giocato molto passivamente ha portato molto passivamente e sapeva di non poter vincere dopo mi difendo e basta si è arreso davanti al deck potentissimo dai potenti ragazzi ciao a tutti e al prossimo video